Nuovo stop ai lavori all'ex scuola De Amicis. Il Tarra, infatti, ha colto il ricorso della ditta MGM. I lavori si fermeranno nuovamente, dunque. Una situazione controversa questa, una storia che va avanti da dieci anni. Il Tarra Abruzzo ha colto il ricorso della MGM contro il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e la nuova ditta affidataria dei lavori, il Consorzio Stabile 6Scarl. È stata annullata, dunque, l'aggiudicazione della gara in capo al Consorzio Stabile Società Edilizia Integrata, dopo lo sgombero del cantiere da parte di MGM e la consegna dei lavori alla nuova ditta. Il Provveditorato avrebbe dovuto indire una nuova gara e non procedere allo scorrimento della graduatoria con successivo contratto d'appalto del 2 ottobre 2018 con la 6. La risoluzione del contratto con la MGM avrebbe dovuto essere eseguita da una nuova gara da parte della stazione appaltante in omaggio ai principi di libera ed effettiva concorrenza di Parcondicio. I lavori, dunque, iniziati solo una settimana fa, subiranno un nuovo stop e il cantiere di una delle scuole simbolo dell'Aquila, anche se non sarà più scuola, dovrà essere bloccato per l'ennesima volta in attesa di una svolta nella vicenda giudiziaria.